Dottoressa Ghenici, la Sicilia ha tanti problemi. Quali temi utilizzerà per convincere che lei è la persona giusta a risolverli? Ma guardi, io utilizzerò quelle che sono le motivazioni della mia candidatura. Innanzitutto il mio amore per la Sicilia. Sono siciliana e sono legatissima alla mia terra. L'amo profondamente e la conosco profondamente. Poi la provincia di Trapani è un po' casa mia, perché mia madre era di Salemi, dove finché io ero all'università siamo andati tutte le estati. Il mio padre è 12 anni pretore a Partanna, quindi io ho vissuto forse gli anni più belli in questa provincia. Quindi la prima motivazione è l'amore per la Sicilia. La seconda motivazione sono le risorse e la ricchezza e la bellezza che c'è in questa terra. Ci sono tanti problemi, è vero, però c'è tanta bellezza, ci sono tante risorse, dalla intelligenza dei nostri ragazzi, alla bellezza del territorio. Mazzara è un posto bellissimo, un mare splendido. Le testimonianze di storia, di arte e di cultura che si sono sovrapposte nel tempo e che sono una ricchezza grande della nostra terra. C'è la capacità delle persone, intanto le persone sono persone sane, noi abbiamo la capacità di essere accoglienti, c'è tanta capacità anche imprenditoriale, c'è tanta creatività, c'è tanta intelligenza. E però ci sono tanti problemi. E allora questa ricchezza di risorse del nostro territorio è un'altra motivazione. E poi c'è il mio percorso, io ho maturato un'esperienza in diversi ambiti, in ambito istituzionale, in ambito di governo, tra l'altro governo regionale, in ambito dell'alta amministrazione, il Ministero della Giustizia e poi otto anni, fino a questo momento, al Parlamento Europeo. Quindi un'esperienza ampia che secondo me può essere davvero un utile bagaglio da aggiungere all'amore per la mia terra, all'impegno, alla volontà, alla determinazione di dare un contributo per il cambiamento, cioè per valorizzare tutta quella ricchezza che c'è e che forse finora invece è stata trascurata, è stata mortificata e non ha consentito quello slancio di sviluppo della nostra terra che invece la nostra terra merita. Grazie.